Noi proseguiremo con la campagna di somministrazione di vaccino Pfizer e Moderna. Abbiamo sospeso le somministrazioni di altri vaccini che hanno determinato eventi preoccupanti e abbiamo sospeso anche la somministrazione di vaccini eterologhi. Abbiamo deciso di non fare la seconda dose con vaccini Pfizer a chi ha fatto come prima dose AstraZeneca, o meglio, a chi ha fatto AstraZeneca sopra i 60 anni. Non c'è problema, faremo il richiamo con lo stesso vaccino. Sotto i 60 anni avremo una linea di maggiore prudenza perché la somministrazione di vaccini diversi non ha avuto sul piano internazionale una sperimentazione ampia. Abbiamo mandato come unità di crisi una nota tecnica al Ministero della Salute perché ci dia chiarimenti immotivati, lo dice il governatore della campagna Vincenzo De Luca, chiarendo la posizione della regione su ciò che sta accadendo in questi ultimi giorni. A chi ha fatto AstraZeneca sopra i 60 anni non c'è problema, faremo il richiamo con AstraZeneca. Sotto i 60 anni avremo una linea di maggiore prudenza perché la somministrazione di vaccini diversi non ha avuto sul piano internazionale una sperimentazione ampia. Noi abbiamo mandato ieri sera una nota tecnica dell'unità di crisi al Ministero della Salute perché ci dia chiarimenti immotivati, perché a giudizio dei nostri virologi la platea di cittadini che hanno in Europa sperimentato la doppia somministrazione, cioè la somministrazione di vaccini diversi, non è molto ampia. Abbiamo la sperimentazione fatta in Spagna su una platea di 600 cittadini e in Gran Bretagna e non abbiamo pareri univoci da parte dei virologi e dei medici.